Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le meteo per questa domenica 21 agosto. Infiltrazioni di aria più fresca dalle alte quote dal nord atlantico determineranno ancora condizioni di instabilità all'estremo sud, specie Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, tempo nettamente più stabile sul resto d'Italia, soprattutto al nord. In Abruzzo si prospetta un weekend complessivamente stabile con un po' di vento di maestrale e al più qualche brevissimo scroscio di pioggia nei settori più interni relegati all'Appennino, altrove cieli serenio, poco nuvolosi, clima gradevole con massime tra i 28 e 29 gradi, minima tra i 17 e i 24 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.